E' partita una nuova riorganizzazione all'insegna del rinnovamento nel PSI abruzzese guidato dal segretario Giorgio D'Ambrosio. Il Partito Socialista Italiano vuole radicarsi sul territorio regionale ed aprire un dibattito politico finalizzato ad ottenere una vasta rappresentanza. Alla luce dei risultati alle elezioni regionali e alle europee, ora come vi state organizzando? Innanzitutto è in fase avanzata una riflessione su quelli che sono stati i risultati. I risultati regionali e noi ci aspettavamo un'elezione di superare il quorum e di raggiungere il 3% e di leggere il nostro rappresentante al Palazzo del nemicicolo. Purtroppo non è avvenuto. Il motivo è che le liste vanno preparate con largantissimo. Il discorso della coalizione che è nata all'ultimo momento, il discorso che c'è stato il veto sul simbolo di Italia Viva sicuramente ha inciso e non ci ha raggiunto l'obiettivo. Alle europee, anche lì, contavamo di superare il 4%. Noi ci siamo impegnati al massimo, abbiamo contribuito a fare la lista, la sede organizzativa. Purtroppo il cuore non è saltato, anche se il nostro candidato, il segretario nazionale Enzo Marai, nella circoscrizione meridionale, come viene chiamata, ha avuto un'ottima performance, 42 milioni di preferenze che si lasciano ben sperare per il futuro. Come vi state preparando ai prossimi appuntamenti congressuali? La riflessione, anche alla luce delle sconfitte che noi dobbiamo mettere, merita una spinta ulteriore di ripresa. Noi ci andremo ad attrezzare, celebrando a brevissima, il primo di settembre a fine estate, un'assemblea programmatica regionale con la quale vogliamo coinvolgere al massimo tutti coloro che ci hanno sostenuto anche in questa fase elettorale per far sì che entrino nel partito in modo organico e ci dirino una spinta anche per andare avanti. Poi entro l'anno andremo a celebrare il congresso regionale dove daremo una spinta ulteriore, una nuova classe dirigente che avrà l'obbligo e l'impegno di impegnarsi per rafforzarsi, soprattutto nelle province in cui abbiamo avuto un risultato meno tendibile rispetto a quello che ci aspettavamo.